benvenuti ancora una volta a Leto di Edo di Scopo di Channel abbiamo appena finito di mangiare l'antipasto preparato dal signore Giuntini e dal cameraman sottoscritto ora facciamo qualche domanda a qualche ragazzo scusi lei, come andava con l'antipasto? oddio, ma si scappa a casa, non c'è l'antipasto bene, 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 bene non vuole rispondere, non vuole rispondere come hai visto l'antipasto? ottimo, tutto perfetto sì, tutto a posto, il stomaco non capisco che sta succedendo a questo punto non si sa grazie, grazie signor Giuntini io ho visto la preparazione, è un bel nome ma dove ha preso questo tocco di classe? ma creazione artistica, è vero la mia fantasia intellettiva che raggiunge livelli superiori alla meia assoluta creazioni strina una luce, un piccanti, un piccic den, così tipo poi, ho tutti un'avvuto a prezzare direi la mia arte culinaria, ai massimi livelli qualche effetto indesiderato , come sarebbe così? grazie lei cameraman, un giudizio solo, come ha visto un antipasto, un giudizio un voto questo non parla mai, oh, ma vaffanculo, ma cosa, aspetta, oh, olio di oliva sardelli composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini, mi sa che questo è un prodotto per scureggiare o per fare la cacca, prova questo, vai in bagno e prova a cagare perché devi così? Vai, 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 questo l'omaggio, questo l'omaggio, oh, Dios, oh, oddio, odio, oddio, 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 addirittura, attenzione, 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 ancora di van bagno, mettiamo, metau, cazzo, fai, cheleavano, vedo che l'oro sardelli, che l'oro sardelli funziona, spero che vi fate attenta un po', eccolo, eccolo, come sta, come sta, funziona, quindi bene tutto si è sollevato e quindi un'altra cosa alle prime 100 telefonate che chiamano viviamo una confezione di latta parma da uno scaduto da 30 per cento scaduto scaduto in più in più uno stappino per il vino e uno stoppino bene qui dal libro dietro lo channel è tutto ci sentiamo nel prossimo meteo ma baffa al culo a due l'olio sardegna